ciao a tutti i video amatori a tutte le videomatrici di senza fissa dimora sfd per gli amici benvenuti in questa nuova puntata la vecchia rubrica autodiscussioni che altro non sono che la discussione che faccio sono in alto poi le guardano i milioni ritorniamo alle origini ho parlato proprio poco tempo fa in verità aiutato un ragazzo a cambiare nazione a cambiare vita a fare tante belle cose tutte insieme che sono caratteristiche delle mie scelte personali di cui ormai ho capito anche molto bene molti meccanismi che ci possono accumulare tutti che quindi posso aiutarti anche a te che guardi dall'altra parte a capire se è il tuo momento di cambiare vita se ce la farai se non ce la farai se hai già le cosiddette piene fino qua della vita che stai facendo e ti stai rendendo conto che te la stanno raccontando ma che nella verità non si applica alla tua realtà personale tutto va attorno a te tranne te non funzioni non va così te la raccontano in un modo ma ti stai accorgendo che ti stanno pigliando per i fondelli che non va così che che in verità te l'hanno raccontata da sempre in verità l'effetto domino che si sta creando ti sta facendo dubitare di qualsiasi cosa della salute della casa del lavoro insomma le basi sociali su cui stabilito le tue credenze fino adesso le tue credenze anche molto limitanti fino adesso le basi sociali su cui è costruito tutto l'occidente è una grande favola è l'impero della menzogna te ne sei accorto oggi e sticassi adesso sono problemi si sta smontando tutto il castellone di carta e allora sei inciampato con l'algoritmo sul canale senza fissa dimora hai detto chissà perché si chiama senza fissa dimora magari lui ci capisce qualcosa di questa roba e in verità non ti stai sbagliando l'algoritmo non si è sbagliato l'algoritmo ne sa più di te su di te e allora oggi sono qui per spiegarti o almeno per darti qualche suggerimento non pretendo di insegnarti nulla anzi ma magari ti do qualche suggerimento che ti facilita un po la vita e che ne esci più convinto un giorno chissà mi chiami scrivi da me e mi dici grazie davide avevi ragione e i tuoi suggerimenti sono stati utili mi hanno permesso di aumentare la qualità della mia vita magari risparmiando pure qualche cosa economicamente incredibile si può stare meglio spendendo meno quando invece tutti ti raccontano che si sta meglio spendendo di più ma torniamo a noi un posto meraviglioso dove andare a vivere davidi dimmi dove devo andare ma l'europa l'europa è fottuta l'europa non ce la farà più non voglio stare poi andare fuori dall'europa perché poi se succede ancora una cosa uguale a quella che è successa negli ultimi tre anni l'europa è la prima che ci cade dentro perché lo sai come vanno le cose e quindi devo andare fuori ma tu come fai avere fiducia e bla 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 è tutto un bla 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 perché tutto dipende dalla tua percezione della realtà tu pensi che l'europa sia la più fottuta beh ti raccontano ti posso portare esempi di persone che al momento della pandemia non si trovavano in europa hanno avuto dei grossi problemi stati che sembravano essere molto meno toccati molto meno sono stati quelli più fottuti in verità è tutto percezione è tutto individuale dipende da quello che tu vuoi dal suo portafoglio dal tuo modo di muoverti dal tuo lavoro dal tuo conti in banca della tua famiglia che cosa capisci tu da che cosa frequenti tutta chi frequenti tu mi ricordo chi lo disse ma tu sei le cinque persone che frequenti di più nella vita e quindi guardati attorno chiediti chi frequenti e poi risponditi da solo io quello che posso aiutarti è darti dei parametri il primo parametro che ti consiglio di valutare è dove vuoi andare ti dici come facile come dove voglio andare lo stai dicendo sei tu che me lo devi dire eh no io non ti posso dire dove voglio andare perché il mio dove voglio andare non sarà mai uguale al tuo dove voglio andare dove vuoi andare anche perché ho dei parametri che se ti racconto ti metti le mani tra i capelli quindi molto meglio che tu non conosci i miei parametri ma che parliamo di parametri generici che si possono usare quindi dove vuoi andare puoi andare in un paese caldo sì davide voglio vivere con lei infraditto 12 mesi all'anno non voglio più occuparmi di vestirmi di svestirmi di dover scegliere del freddo della pioggia della neve ti do una notizia se tu sei in queste condizioni allora guarda io ti capisco perfettamente ma preoccupati del tuo portafoglio perché se un giorno tu valuterai di andare a vivere in una situazione del genere dovrai capire che in molti casi questo genere di paesi questo genere di mito è un paese povero bisogna dire un paese povero un paese che fondamentalmente ha un reddito molto basso andare a vivere in un paese che ha un reddito molto basso vuol dire percepire un reddito molto basso vuol dire che se hai bisogno di lavorare lavorerai in un paese con un reddito molto basso il tuo stipendio sarà molto basso che cosa vuol dire ciò perché se un giorno da quel paese molto con un reddito molto basso tu vorresti tornare in un paese con un reddito molto alto tipo l'italia ti sarà molto ma molto difficile fare un viaggio all'anno per venire a trovare i parenti gli amici qua diventerà praticamente impossibile e lo diventerà nel giro di molto poco tempo a meno che tu non sia in una condizione apposta cioè vado a vivere in un paese con il reddito molto basso ma io conservo un reddito molto alto quindi ho un bel conto in banca ho un bello stipendio che non dipende dal paese in cui vivo ma che lo percepisco vuoi per internet vuoi per prestazioni vuoi per capitali tutto quello che vuoi allora a quel punto il problema non si pone anzi in verità è tutto il contrario quello che ti dico beh allora vai in un paese con un reddito molto basso perché potrai approfittare dal costo della vita molto basso e tu avrai un reddito molto alto ma se non corrispondi anche questa breve e coincisa descrizione con degli obblighi cioè quelli del conto in banca della percezione della vita e soprattutto del tuo reddito fisso mensile ti sconsiglio vivamente i paesi a reddito molto basso questa cosa può succedere in un sacco di posti diversi per un sacco di persone diverse un altro motivo che devi valutare se deciderai decidessi decidi debbi e decideranno se tu decidi di andare a vivere in un paese caldo ok non tutti i paesi caldo sono a reddito molto basso possiamo prendere ad esempio le Canarie che sono tanto ambite da tanti italiani il reddito è più basso del reddito abituale diciamo una parte dell'Italia del nord ma si può tranquillamente avvicinare all'Italia del centro se non superare in alcuni settori di impiego quindi il vostro salario forse può essere come successe nel mio caso era superiore al salario che percepivo in Italia a parità di livello e a parità di mestiere quindi non tutto è così lì per questo lo prendo come esempio non di paese povero ma di paese europeo a tutti gli effetti anche se di Europa non si tratta all'euro e a tutto il resto quindi se andate alle Canarie ad esempio questa cosa non è necessariamente da valutare se andate alle Canarie però dovete valutare il fatto che magari per spostarvi dal di lì nel caso in cui abbiate un lavoro che vi lega lì al territorio nel caso in cui voi abbiate bisogno di lavorare nel caso in cui voi vi legate a un reddito lì sul territorio non avete un super conto in banca, non avete del capitale da parte infatti avete scelto semplicemente perché ne avete le palle piene o perché per curiosità quello che ho fatto io senza avere un conto in banca a 4 cifre o 5 cifre o 6 cifre avendolo a 3 come l'avevo io e quindi ti posso dire che devi stare un po' attento a che cosa devi stare attento? beh la prima cosa che devi stare attento è che devi pensare che comunque dovrai ritornare in Italia una o due volte all'anno e quindi ti ci vuole del tempo oltre ai soldi che forse non sono neanche tanti perché tramite aerei qualche convenzione dei cittadini canari o un aereo che non ha dei prezzi incredibili forse puoi tornare ma se ad esempio invece lo devi fare in auto o in barca tutto si moltiplica sia i costi che il tempo quando ti trovi in un posto così e vuoi andarti a fare il tuo giro in auto se sei appassionato magari di viaggi in giro per l'Europa in macchina, in auto, in camper, in moto devi pensare che dovrai prenderti una barca farti almeno tre giorni di barca intanto a due ore quando va bene col mare è piatto se no diventano molto di più e con tante belle undine è un costo non irrisorio è un costo bello, bello, importante dopo dipende dal mezzo e da come viaggi se viaggi con o senza stanza, letto, eccetera ma comunque ti costerà abbastanza e quindi devi valutare che se lo fai tutti gli anni diventa una spesa e devi anche valutare che a livello di tempo e di ferie magari usi tutte le ferie per venire in Italia in auto, in macchina, eccetera oltre a tutto questo c'è un lato che invece in pochi considerano che se siete nati ad esempio in una regione qualunque italiana magari centro-nord, il sud non lo so, magari un po' meno ma centro-nord sarete abituati a avere le stagioni ben determinate sinceramente non fa un invernomite al centro-nord Italia quindi farà freddo d'inverno, fa caldo d'estate piove, nevica, c'è il verde, ci sono gli alberi perché dico queste cose? Perché magari se ti trasferisci che ne so, ne dico una a caso, Fuerteventura ma può essere anche Lanzarote e anche in molti casi altre Canarie diciamo, altre Canarie è meno evidente ma c'è lo stesso, questa problematica ti troverai in panorami lunari che all'attacchito magari ti piacciono magari no, magari trovi subito il modo di dire no, assolutamente io qua non ci posso venire perché non ci manca un albero neanche a pagarlo ma magari non te ne accorgi magari vedi e dici, wow, i vulcani, wow, questo, wow, il deserto, wow, non piove mai wow, wow, wow e poi dopo quattro mesi che sei là comincia a rotteare i pollici in quel ballo che si chiamava Pippero una volta il ballo del Pippero questo e inizi a pensare che, eh beh, com'era bella la pioggia ti ricordi quando andavamo nel bosco a camminare io e te col cane ti ricordi quando non c'era vento per due mesi all'anno tre mesi all'anno ti ricordi quando non faceva 48 gradi quella pioggia di formiche volanti ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi perché? perché le canarie sono questo sono, può passare un anno senza che sia versata una goccia d'acqua puoi passare un anno senza che vedi un bosco può passare un anno senza che vedi due alberi un po' grossi con un po' di ombra può passare anche più di un anno a seconda del tempo che ci stai senza vedere una pioggia cadere nei vetri della macchina che non sia quella appunto di formiche giganti può passare un anno che la temperatura non scende sotto i 15 gradi e che però arriva a 48 d'estate o 53 come ho visto, ho visto pure un 57 non tutto quello che luccica è oro per questo ti dico informati bene stacci del tempo, passaci del tempo prima di prendere delle decisioni importanti che poi vanno a condizionare tutta la tua vita e insomma questo è uno dei parametri che mi piaceva portare alla vostra attenzione perché in tanti casi non si valutano fino in fondo si tende a passare avanti a voler prendere decisioni magari affrettati dalla vita dalle condizioni, da essere veramente stanchi a volte si arriva a prendere queste decisioni in dei momenti in cui non si è più tanto riflessivi in dei momenti in cui si vuole più che altro scappare da certe situazioni perché mille ragioni, per carità non faccio una colpa ma state molto attenti state molto attenti perché le cose si ritorcono verso di voi in una maniera abbastanza veloce e abbastanza disastrosa nel senso che poi vi accorgete che certe decisioni che avete preso, le avete prese troppo in fretta ve ne accorgete troppo tardi e avete magari giocato vi siete già giocati con la possibilità che avevate l'unica per cambiare veramente la vostra vita molto meglio essere riflessivi proprio in quel momento lì cioè d'accordissimo su accelerare il cambiamento d'accordissimo su fare un licenziamento ma prima di trasferirvi definitivamente magari acquistando una casa dall'altra parte del pianeta beh pensateci molto bene perché vedo anche canali di gente che si dice super esperti che poi ha fatto delle scelte così e si è trovata nella cacca fino al collo o si è trovata a fare delle scelte veramente pessime pessime a livello di qualità della vita pessime a livello di investimenti non ve lo dicono perché dopo poi ve la vogliono vendere a voi la loro scelta inefficiente, inefficace e disastrosa è un po' quello che succede con i paesi che sono sul loro del disastro che tendono a far entrare nel loro ordine di disastro anche gli altri in maniera che possano così scontare la pena diciamo avere la compagnia trovarsi identificati in un gruppo di falliti ci si sente meno falliti no, non è vero ci si sente falliti uguali anzi peggio quindi se ti posso consigliare ti consiglio di rifletterci bene sopra e di non farti trasportare dagli eventi giocati bene le tue carte perché spesso la vita ti offre solo una possibilità